E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della serie Vanilla Giuseppesca Allora adesso giocheremo alla Vanilla Giuseppesca Ho messo Minecraft dallo schermo, mamma mia quanto sono proprio Aspettate ragazzi che vi vorrei far vedere meglio però Sopprei come mettere un attimo Aspettate Raga io ci sarò sempre, starò qua Sulla serie a giocare Ovviamente la serie Vanilla Giuseppesca faccio vedere anche delle nuove cose che ho aggiunto Ovviamente ho anche cambiato versione, non sto più alla 1.5 ma alla 1.8 Cioè non lo so a che versione sto Però penso di stare alla 1.7, 1.8 Boh, qualcosa del genere Un attimo che si carica di Minecraft perché mi lagga di brutto Di bruttissimo Ho già parlato per 1 minuto e 10 secondi Ah comunque nei commenti raga Scrivete Hashtag Hashtag Va bene ora non mi ricordo come si dice Hashtag Eccoci Alla fine ho fatto l'arco e ho anche la breccia Ho ammazzato molti scheletri E sono andato in esplorazione anche tantissime volte Una volta sono anche morte e sono andato in esplorazione Dettagli Allora qui come potete ben vedere ho aggiunto il terrazzino Poi Ho fatto questa nuova costruzione E anche questa Che sarebbe la mia forma di grano più grande Guardate qua ragazzi Gigante Raga comunque in questo video Andiamo in esplorazione Raga lo faccio solo per voi Andiamo in esplorazione Scherzerate in questo video Andremo ora E' interesse Mi piace troppo trollarvi Allora Possiamo la roba che non ci serve Questo Aspettate che mi equipaggio per bene Come si deve Sì ragazzi Io sono un po' strano A tenere gli slot Li tengo Sempre Così Un attimo ora Ecco che devo craftare una cosa Intanto mi porto in letto Mi crafto Mi crafto un altro arco Non se nel caso finisco il mio Poi è ancora bello pieno Possiamo questo Questo Ok Possiamo andare in esplorazione Però raga Io dico Prima di dormire E poi andiamo in esplorazione Che cosa sto facendo Aspettate raga Aspettate raga Io mi devo salvare le coordinate Raga Raga dove è la mappa Aspettate Guardo Prendo un po' di danno Ma non è nulla di che Raga Io se non trovo la mappa Sapete che non posso Dare un' esplorazione Che devo fare lo screen Fermi lì Raga Ho rischiato di brutto Ah Oddio raga È entrato un ape in casa All'improvviso No No Raga Raga Non possiamo andare in esplorazione Mi dispiace Almeno che non trovo una mappa Nella mondo Ma Sperai quanto sono carino Quanto sono carino Guarda Armo Quella è sta Di mare Mi bolli C'è polli Ok Che stanno tutti Giannicola Giannicola 2 Ve via Ve via Ha Mi ha scappato Un pollo mamma tendo il pollo in casa tra poco mi devo anche trasferire siamo già al 2 agosto che bello ah raga comunque vi devo dire una cosa non porterò tantissimi video quando arriverà a settembre perché sarò impegnato un po' con la scuola quindi spero qualche video il sabato o la domenica uscirà sempre quindi tenetevi sempre aggiornati aspettate che voglio farvi provare a fare un po' di parkour eh raga in questo video vabbè facciamo il pavimento qua allora raga mi serve un botto di sabbia ve la prendo con il mio palo ah raga l'episodio in cui ho trovato i diamanti scusate se non ve l'ho fatto scusate se non ve l'ho fatto vedere perché ero talmente emozionato che ne devo di registrare ma invece no guarda guarda come ho fatto la piscina la piscina con lì idromassaggio prima di balzo scusate aspetta la piscina che raga ho visto male credo che c'era un creeper però ok una fornata raga questo video lo divide in due parti let's go ciao ci vediamo al secondo video ciao ciao ciao